amici di mmo.it ben ritrovati in questo nuovo video dedicato a throne and liberty nel quale in base a una modesta esperienza di una settantina ottantina di ore da casual in pwe giocando al gioco insomma in maniera normale ancora cerco di capire se effettivamente è pay to win e vediamo perché è una delle critiche maggiori fatte su throne and liberty quindi vediamo se è vero oppure no. Allora la questione è molto semplice su throne and liberty si può accedere a un auction house un auction house nella quale è possibile acquistare varie cose tra cui oggetti direttamente con dei soldi che si chiamano lucent che si ottengono pagando soldi reali cioè io vado allo shop posso scendere qua e comprare dei lucent per un tot di euro una volta che io ho questi lucent posso recarmi in basta e comprare di alcuni oggetti l'oggetto direttamente di altri oggetti posso comprarne degli estratti ora throne and liberty è un gioco in cui l'equip conta è a progressione verticale quindi gli oggetti si devono comprare e si devono potenziare oppure si devono ottenere allora cosa succede che un giocatore normale prende fai dungeon per esempio come questi fa un altro genere di evento come i dungeon open world craft e ottiene vari oggetti quindi potenzia questi oggetti con le gemme portandoli come di tradizione di qualsiasi mmo coreano dal più 1 al più 9 in questo caso tramite un sistema di upgrade e poi però deve anche fare i conti con il fatto che ciascuno di questi oggetti ha dei trait questi trait sono di fatto l'upgrade maggiore che uno può ottenere dagli dagli item da qualsiasi oggetto sono la parte più avanzata non sono per forza quella che conta di più però comunque ha un significato abbastanza importante e per potenziare questi trait è necessario fondamentalmente ottenere o un oggetto uguale da shardare da distruggere per infondere il trait dentro un altro oggetto che ci interessa se il trait è uguale il trait si potenzia quindi per esempio io qua ho degli heroic robes of the resistance se io droppassi un altro heroic robes of the resistance con elta regen 15 esattamente come questo io potrei distruggerlo per potenziare il trait elta regen 15 e ne posso anche sbloccare di altri con delle pietre che però non sono direttamente legate al discorso del pay to win il punto qual è che io posso andare in asta a comprare esattamente quello che mi serve dal punto di vista degli estratti per esempio e acquisire in questo modo rapidamente se l'asta venisse caricata ecco ho un oggetto oppure un estratto che io vado direttamente a mettere sopra al mio già presente e lo potenzio rapidamente senza aver bisogno di droppare per forza un altro oggetto quindi all'apparenza sembrerebbe che un po' di pay to win c'è nella misura in cui è vero che non c'è la esclusività degli oggetti per chi paga perché tutta sta roba qua si può tranquillamente ottenere in game e infatti adesso vi dico anche un'altra cosa però è anche pur vero che io se pago posso ottenere o direttamente l'oggetto pagandolo all'asta oppure l'estratto dell'oggetto per poi potenziarlo quindi questo è dove si compie il discorso c'è però un altro discorso ancora da fare che io devo dirvi non ho pagato niente ho giocato tranquillo con un gruppo di amici da curatore e esattamente come io qua in asta vedo gente che vende questi oggetti e io li posso comprare allo stesso modo anche io posso vendere gli oggetti e farmeli comprare da altri e in pochi giorni con pochi dungeon io ho acquisito abbastanza lucente da comprarmi gratuitamente il battle pass è abbastanza lucente da averne adesso 229 quindi se voglio mi prendo anche uno sfizio dallo shop lo shop non ha niente di particolare qua sono tutte skin fondamentalmente amitoi mount stupidaggini se vuoi cambiare l'appearance del personaggio rinominarlo cambiare il server e così via questo significa che è vero questa è un'economia viziata dalla presenza di soldi reali al suo interno questo sicuro però è anche altrettanto vero che uno giocando può tranquillamente farsi i soldi necessari per poi partecipare anche lui in qualche modo alla grande fiera del pay to win senza aver mai speso realmente nulla e vi garantisco non occorre essere dei geni per partecipare a questa cosa non occorre assolutamente basta avere un buon gruppo e fare il contenuto corretto da questo punto di vista seppur possiamo dire che throne and liberty è un gioco ragionevolmente pay to win perché i germi li ha la possibilità ce l'ha poi nel concreto questa possibilità potrebbe essere effettivamente molto mitigata grazie a tutti grazie a tutti